Salve amici bentornati nel mio canale. Oggi ho raccolto le patate, le prime di quest'anno, e le vado a conservare in un modo molto molto semplice, così come lo faceva la bisnonna. Prendo una cesta e ricopro fondo e lati con una plastica. Potevo usare anche la stoffa, ma io in questo momento non ho un petto di stoffa disponibile. Durante i giorni trascorsi ho prelevato dal mare, dalla spiaggia del mare, abbondante sabbia, che ho fatto accuratamente asciugare al sole. Vado a ricoprire il fondo della cesta con abbondante sabbia. Possiamo usare anche la sabbia di fiume, torrenti o laghi. È molto importante però che deve essere asciugata. Il fondo deve essere coperto con abbondante sabbia. Non si deve vedere più la plastica. Aggiungo sopra la sabbia le mie patate, alcune delle mie patate, ben sparse tra loro. Ops, in un lato mancava la sabbia, abbondante. La vado ad aggiungere. finito lo strato, ricopro le patate nuovamente con la sabbia, abbondante sempre. farlo vedere qua vicino. Spargo la sabbia, aggiungo il resto delle patate, le distribuiscono di nuovo nella sabbia stessa e vado a ricoprire il tutto nuovamente con altra sabbia. Sempre molto abbondante. Mi accorgo che la sabbia è ancora un po' umida al centro. Non ci sono problemi. La metto di lato e prelievo quella abbastanza asciutta. È importante questo procedimento. La sabbia deve essere molto, molto asciutta perché altrimenti le patate tenderanno a germogliare. Le patate nell'antichità si conservavano in cantina, sottoterra, ma io non ho la cantina e quindi mi adopero della cassetta. Prima di dirti dove e come conservarli, ti voglio ricordare, ma tu ti sei iscritto al mio canale, hai attivato la campanellina? Fallo, non te ne pensirai. Una volta ricoperta con molta molta sabbia tutte le patate, andate a riporre tranquillamente una cesta sopra l'altra, cioè una cassetta sopra l'altra, in un posto fresco e buio. Ciao!